speciale 10.000 iscritti e ciao a tutte e benvenute a un video molto molto speciale che mi emoziona anche molto e cioè lo speciale 10.000 iscritti me l'avete chiesto io non sapevo neanche tanto se fare questo video perché mi sembrava quasi presuntuoso per festeggiare un traguardo di cui tutto sommato il merito va soprattutto voi che vi siete iscritti a questo canale che mi avete dato fiducia sostegno e simpatia in questi ultimi mesi permettendomi di raggiungere questo traguardo che mai mi sarei sognata di raggiungere poco meno di un anno fa quando ho iniziato questo canale youtube per cui mi ha fatto comunque molto piacere vedere che volevate un video di questo tipo e quando vi ho chiesto qui sul canale ma anche su instagram nelle stories cosa volevate mi avete suggerito un q&a cioè un video di domande e risposte e in particolare le domande e le risposte si sono un po divise in due due canali principali da un lato tantissime domande riguardanti ancora la moda ma soprattutto tantissime questo mi ha stupito ma mi ha fatto anche molto piacere perché di tanto è anche bello per me parlare di qualcos'altro e soprattutto spero di incoraggiare chi vuole fare qualcosa di simile appunto tante domande riguardano un po dietro le quinte di quello che io faccio qui su youtube perché lo faccio e le modalità appunto della mia attività se così la vogliamo chiamare della mia passione al mio hobby qui su youtube per cui sono molto contenta alcune domande sono spero motivanti interessanti e anche soprattutto se volete anche voi magari fa realizzare qualcosa di simile se volete parto per partare una volta una vostra attività un vostro interesse un vostro hobby ma anche un vero e proprio lavoro professionale online spero appunto di darvi degli spunti in più con queste con le risposte che darò a queste domande altre domande sono decisamente succose perché qualcuno di voi mi ha chiesto anche quanto guadagno qui su youtube se me la sentivo di condividerlo e mi ha mostrato in effetti è vero perché ne ho visti tanti anch'io ultimamente che è un po un nuovo filone qui su youtube quello di fare il video su quanto si guadagna con un canale come il mio alla fine è appunto non mi sembra niente di così terribile da da confessare per cui ho deciso che senz'altro alla fine di questo video vi dirò quanto guadagno qui su youtube ma veniamo subito alle domande e la prima è stata mi è stata fatta da anche da una lettrice del blog ma anche da un iscritto a questo canale che mi dice ciao cristina mi piacerebbe aprire un canale youtube per condividere la mia passione il giardinaggio ci racconti la tua storia di youtuber ecco appunto prima di tutto io non mi definirei esattamente una youtuber perché purtroppo lavorando e avendo altre cose da fare per me rimane comunque un'attività diciamo un anno non più un hobby però una una passione e soprattutto una passione che si inserisce in un'attività più ampia che è quella del mio blog che negli ultimi diciamo due tre anni è cresciuta fino a diventare un vero e proprio business online quindi ecco il mio canale youtube nasce innanzitutto con l'intenzione l'intenzione di servire in qualche modo la mia audience in modo ancora più più efficace quindi di offrire non solo dei testi da leggere sul mio blog sotto forma di post ma anche appunto questo canale video per aggiungere arricchire i contenuti che io vi propongo su tutti gli argomenti che girano attorno diciamo lo stile di vita di noi donne over 40 quindi ecco l'intento primario non è senz'altro quello di farne un business poi capirete anche perché ma soprattutto quello di servire meglio chi mi chi mi segue offrendo anche dei contenuti video l'idea mi è venuta qualche anno fa quando ho lanciato il mio primo corso il corso pratico di stile e in quell'occasione ho realizzato il mio primissimo video in assoluto non credevo di poterlo fare perché sono una persona piuttosto riservata e anche introversa e parlare in pubblico non mi è mai piaciuto c'è stato anche un periodo della mia vita in cui l'ho dovuto fare spesso per lavoro e l'ho detestato diciamo non mi sono mai abituata sono sempre stata comunque un pochino nervosa nel farlo anche se magari non ne davo l'apparenza però ecco fare video è una cosa completamente diversa è un'attività creativa che mi sta piacendo tantissimo per cui mi dicevo il primissimo video era in realtà un video privato per cui se voi andate indietro anche sul mio canale vedete delle cose che hanno qualche qualche mese in più di un solo anno ma sono in realtà video che non avevo fatto non avevo ancora un canale youtube li ho messi dopo e li ho resi soprattutto pubblici dopo ma nascono come video diciamo per arricchire alcuni dei miei corsi e in particolare questo primissimo corso che è il corso pratico di stile poi quello che è successo è che dopo che avevo fatto quel video in tantissime mi hanno scritto le prime corsiste appunto le prime clienti di questo corso per dirmi che gli era piaciuto tantissimo vedermi in video che avevano trovato quel particolare video dove davo sì dei suggerimenti per fare decluttering per semplificare il guardaroba ma soprattutto condividevo con voi la mia storia e anche quelli che sono stati alcuni ostacoli alcune difficoltà che ho vissuto anni fa che mi hanno portato a realizzare tutto questo ed è piaciuto tantissimo per cui mi sono detto ma perché non farne qualcuno di più magari renderli pubblici su youtube in modo che più persone possano appunto usufruirne e anche magari trovarne ecco a trovare dei consigli utili delle dritte utili e così ho fatto il resto diciamo che è storia nel senso che poco meno di un anno fa ho iniziato il mio canale con assolutamente zero iscritte e oggi siamo a circa 10.200 e di questo non posso che ringraziarvi di tutto cuore perché è assolutamente un merito vostro per cui grazie è preciso che per me i numeri sono solo numeri cioè possono servire per seguire un po l'andamento e l'evoluzione di un canale youtube ma dietro io so perfettamente che ci sono appunto 10.200 persone soprattutto 10.200 donne ma anche qualche uomo come ho scoperto che mi seguono semplicemente perché sono interessate ai contenuti e di questo vi sono estremamente grata quindi ecco questo è un po il mio percorso di youtuber non so ancora dove mi porterà questa avventura intendo senz'altro continuare soprattutto per offrirvi diciamo ancora più utilità ancora più valore aggiunto spero e arricchire i miei contenuti iscritti che invece trovate sul mio blog seconda domanda è stata come combini la tua vita di mamma con quella di professionista youtuber ecco questa forse è una domanda che mi andava fatta 5 10 anni fa ma all'epoca chiaramente non era ancora su youtube infatti i miei figli sono entrambi grandi uno ha vent'anni l'altro ne ha 23 studiano entrambi all'università in realtà in questo momento come tantissimi altri studenti sono a casa per via ecco di quello che stiamo vivendo da ormai oltre un anno e quindi studiano da casa però devo dire che in questo sono bravi e sono fortunata perché studiano con serietà e raggiungono tutti i vari traguardi superano gli esami quindi ecco direi che va tutto bene ma non ho esigenza di combinare diciamo la mia attività né di professionista né di tanto meno di youtuber con quella di mamma quello che succede che a volte ci intralciamo un po nonostante io viva in una casa piuttosto grande per per essere in città a volte abbiamo dei piccoli problemi di condivisione degli spazi per esempio qualche settimana fa sono stata intervistata per un altro canale youtube e avere mezz'ora di quiete di silenzio in salotto è stato difficilissimo c'era uno dei miei figli fuori comandato da suo padre che aspirava le foglie facendo un rumore incredibile io che non sentivo praticamente niente per cui ecco ci sono questi piccoli problemi di convivenza che probabilmente anche voi vivete ma ecco non come esigenze di mamma a parte quello di cucinare di urlare quando le loro camere superano il livello di guardia in termini di disordine in questo momento non mi danno granché da fare per cui direi che va bene così in passato chiaramente lavorando a tempo pieno anche se lavoravo in proprio e avendo due figli anche vicini per età quindi sono stati piccoli insieme ho avuto bisogno di aiuti e non volendo gravare comunque sui miei genitori tutto il tempo ho scelto quando erano molto piccoli di avere una tata e poi magari qualche babysitter volante quando poi sono entrati diciamo nel sistema scolastico e tutto sia un pochino semplificato comunque ecco quando è nato il mio primo figlio ha coinciso con il momento in cui mi sono messa in proprio quindi pur dovendo trovare dei sistemi per organizzarmi e poter lavorare nell'arco della giornata non mi sono mai persa nessuna tappa importante della loro crescita perché comunque li avevo vicini a me ecco magari li mandavo con la tappa ai giardinetti e io intanto mi concentravo sul lavoro oppure mi ritrovavo a lavorare anche a tardasera a volte è stato stressante di sicuro non facile però ecco tutto sommato mi ritengo abbastanza fortunata con vari aiuti ecco è possibile senz'altro farcela anche se i figli sono più di uno un'altra domanda che mi è stata fatta questa non strettamente legata a youtube nella mia attività diciamo di questi ultimi anni riguarda i miei studi mi hanno chiesto ci parli dei tuoi studi di economia e consiglieresti questa scelta un ragazzo giovane e interessato al trading oggi allora secondo me una laurea in economia è sempre una laurea in economia è una delle lauree più versatili e spendibili meglio sul nel mondo del lavoro sia come possibilità di occupazione sia anche come stipendio perché comunque con una laurea in economia tendenzialmente si guadagna piuttosto bene questo già da neolaureati e poi soprattutto è una laurea molto versatile che può essere utilizzata in tantissimi settori diversi ancora oggi c'è chi crede che chi si laurea in economia debba poi finire necessariamente inevitabilmente a fare il commercialista oppure magari lavorare in banca o comunque un'attività ecco strettamente tecnico economica secondo me non c'è nulla di più falso è una laurea eccellente per chiunque voglia per esempio imbarcarsi in un'attività imprenditoriale io e mio marito tra l'altro siamo entrambi laureati in economia ci siamo conosciuti all'università tutte e due abbiamo frequentato economia aziendale alla bocconi e questo poi è stato utile una volta laureati per trovare lavoro trovo che una laurea in economia possa essere un eccellente anche se volete fare altro poi nella vita ma volete usarla per creare la vostra autonomia la vostra stabilità finanziaria personale perché comunque da delle risorse che veramente si possono spendere in qualsiasi settore ecco in relazione all'attività di trading che mi chiedeva questa mamma penso per suo figlio parlava di un ragazzo giovane io trovo che nessuna facoltà prepari realmente bene a questo tipo di attività oggi forse le cose sono cambiate io non sono perfettamente al corrente di tutte le materie dei corsi di studi e soprattutto del come vengono insegnate ho un mio figlio più piccolo che studia economia da un semestre e comunque non sono cambiate molto le cose a livello di programmi quindi ecco l'attività di trading sicuramente una laurea in economia fornisce delle buone basi per capire per esempio la macroeconomia e come impatta i mercati finanziari anche per capire diciamo un po di cose di tecnica finanziaria sicuramente ma poi diciamo gli aspetti più pratici legati magari singoli strumenti finanziari proprio come si fa trading sono cose che si imparano dopo una volta fuori e ci sono sicuramente anche persone che acquisiscono queste capacità senza necessariamente essere laureate in economia però ecco secondo me è ancora una di quelle lauree veramente utili sia per la propria vita personale sia sul lavoro e spendibili soprattutto in tantissimi modi diversi per cui si la straconsiglia ancora oggi un'altra domanda è come gestisci la tua agenda bucket list ecco benché io abbia diverse attività perché oltre alla mia attività professionale principale ogni giorno mi ritaglio un'ora un'ora e mezza volte anche due ore per per lavorare al mio business online quindi al blog a questo canale youtube ma soprattutto ai miei prodotti a quello insomma che ci gira attorno non non ho un'agenda non tengo un'agenda è una cosa che non sono mai riuscita a fare invece a livello di bucket list se si intende un elenco delle cose da fare da anni uso questo trucchetto che ho letto in un libro che mi è piaciuto moltissimo e mi ha in un certo senso anche un po cambiato la vita quantomeno la vita organizzativa che si intitolava io l'avevo letto in inglese ma esiste anche in italiano ve lo linko qua sotto che si chiamava eat that frog cioè in goia questo rospo e che insegnava praticamente il principio cardine era di annotarsi ogni giorno su un pezzettino di carta le tre cose principali da sbrigare quel giorno e evaderle il prima possibile cioè le cose magari quelle più pesanti più sgradevole farle per prima per poi avere davanti una o più tante ore insomma di tempo ancora libero da impegni veramente impellenti da dedicare poi a tutto il resto ma è questo è sempre servito perché a volte magari procrastinavo determinate cose che non avevo voglia di fare per più e più giorni e con questo sistema risolto drasticamente il problema alla radice devo dire che mi trovo molto meglio perché lavoro molto più concentrata e focalizzata una vera e propria agenda non ce l'ho lavoro ahimè con fogliettini post it volanti divide un giorno all'altro vi devo far vedere la mia postazione di lavoro è molto disordinata perché proprio non ci riesco non sono una persona strutturata al punto da un quanto meno sul piano organizzativo da usare effettivamente bene un'agenda dovrei farlo lo so ma in me non ci riesco un'altra domanda mi viene fatta da un'altra iscritta questo canale e che mi dice ho notato che nelle ultime settimane ha intensificato la pubblicazione di video vorrei chiederti se questo sta influendo sulla tua vita professionale familiare o se pensi mai di dedicarti full time a questa attività ecco dedicarmi full time all'attività di youtuber assolutamente no e ci arrivo anche al punto successivo che è quello in cui vi svelerò quanto guadagno in un mese con i video su youtube quantomeno a livello di pubblicità lo escluderei anche se dovesse crescere molto questo canale sia perché appunto ho già altre cose da fare che mi piacciono che rendono che voglio continuare a fare quindi non ho materialmente il tempo per farlo ho intensificato i video sì e no qualche volta mi è capitato effettivamente di fare dei video speciali che pubblicavo a sorpresa perché di solito cerco di essere abbastanza regolare martedì giovedì e domenica ormai sapete che trovate un mio video e cerco di rispettare un po questa tabellina di marcia non so adesso se passare da tre a due video settimanali comunque siamo sempre lì ho fatto qualche video extra per esempio fatto uno speciale sulle mie youtuber preferite per la festa della donna in qualche modo lo faccio anche perché quando vado fuori tema e quindi non parlo di moda beauty lifestyle ma magari spazio nella crescita personale nella finanza personale mi sembra sempre di togliere di rubare qualcosa alle tante iscritte che sono interessate soprattutto alla moda e al beauty io mi rendo conto ci sono tantissime persone che ogni volta che faccio un video di finanza personale mi scrivono e mi dicono grazie ci piace tantissimo però io vedo anche i numeri e le statistiche e mi rendo conto che sono argomenti che interessano solo una parte della mia audience delle iscritte a questo canale quindi non voglio annoiare o tediare qualcuno fargli credere magari erroneamente che il canale stia andando in un'altra direzione per cui quello che ho in mente di fare che sto già un pochino pianificando quello di mantenere questo canale così com'è anche in futuro assolutamente non cambierà niente e poi di splittare di creare un secondo piccolo canale in cui parlerò sia di come creare un business online perché ricevo tante domande richieste soprattutto di consigli e di aiuto da parte di persone che vogliono realizzare qualcosa di proprio vogliono magari attivare una seconda fonte di reddito o proprio creare una vera e propria attività online o magari ce l'hanno già nella vita reale può essere un negozio che vogliono magari trasformare in online store un'altra attività oppure vogliono vendere promuovere i loro prodotti e servizi anche online ma non sanno bene come fare ecco io in questi tre anni da blogger e poi da youtuber ho imparato davvero tantissime cose e quindi vorrei veramente condividere anche queste conoscenze e queste informazioni e questi consigli con chi ne avesse bisogno e invece di farlo diciamo una persona per volta anche perché materialmente comincio a fare fatica a rispondere a tutte le mail che ricevo anche su questi argomenti ho pensato di farlo con questo secondo canale per cui magari ve lo linko qua sotto e se avete voglia di iscrivermi anche se è ancora un po vuoto ma vi prometto che arriveranno nuovi video mi farebbe un grandissimo piacere e vi invito senz'altro iscrivermi e supportarmi un po con la vostra iscrizione perché mi farebbe davvero tanto piacere però ecco questo canale qua no time for sale continuerà invariato come sempre è più o meno con la stessa tabella di marcia con la stessa frequenza dei video l'ultima domanda che è quella diciamo più succosa che non mi aspettavo però mi è stata fatta e più di una volta è tanti youtuber italiani stanno facendo video quanto guadagno con youtube ci sveli quanto guadagni come youtuber e si guadagna di più come youtuber o come blogger visto che hai anche un blog ecco allora io potrei prendere l'ultimo mese completo il mese di marzo e dirvi quanto ho guadagnato i miei guadagni youtube me li da in franchi svizzere perché io vivendo in svizzera ho dovuto indicare tutti i miei dati fiscali perché naturalmente poi ci pago anche le tasse e quindi meglio esprime in franchi svizzere nel mese di marzo in tutto il mese ho guadagnato 497 franchi svizzere spiccioli che in euro dovete togliere circa il 9 per cento quindi diciamo arrotondando ho guadagnato circa 450 euro questo per quanto riguarda i guadagni legati alla pubblicità quindi a google adsense che sono quei video pubblicitari che vedete praticamente su tutti i canali youtube ed è quanto diciamo youtube mi paga per la pubblicità che manda in onda sui miei sui miei video questo tra l'altro corrisponde a circa il 55 per cento di quello che youtube stesso invece in tasca dalle aziende che si fanno pubblicità perché ahimè non tutto viene poi trasferito noi poveri youtuber quindi come vedete è il mio canale per carità è tutt'altro che grande adesso conta poco più di 10.000 iscritti però non sono guadagni stellari che uno dice si mollo tutto e faccio solo ancora video bisogna crescere davvero tanto e tra l'altro non c'entra niente con gli iscritti quanto guadagnate quello che conta veramente sono le visualizzazioni e in particolare le visualizzazioni monetizzate cioè su cui effettivamente viene mostrata della pubblicità che sono quello che permettono di guadagnare per ogni visualizzazione ma chiaramente sono pochi spiccioli di guadagnare allo youtuber di turno ecco io so che i guadagni anche a parità diciamo di canale di dimensioni di un canale sono molto diverse da uno youtuber e l'altro perché dipendono dal cosiddetto cpm e dall'rpm questi sono due indicatori il cpm è il cosiddetto costo per mille cioè quanto i pubblicitari o le aziende che fanno pubblicità pagano youtube ogni mille visualizzazioni dei vostri video più o meno e l'rpm è quanto lo youtuber guadagna ogni mille visualizzazione di uno dei suoi video per cui quello che conta non sono gli iscritti per uno youtuber ma sono le visualizzazioni dei propri video inoltre anche questo cpm o rpm varia molto a seconda per esempio di un sacco di fattori in realtà di dove siete voi di dove è la maggioranza della vostra audience dell'età e di altri fattori cosiddetti big data che youtube riesce a carpire sulle persone che guardano i video ma sono tanti tanti fattori che influiscono su questo cpm rpm che poi determina quanto lo youtuber può guadagnare questo solo naturalmente riguarda solo la pubblicità perché poi chiaramente sia con un blog sia con un canale youtube le possibilità di guadagnare sono anche altre per esempio marketing di affiliazione la creazione dei propri prodotti che poi vengono venduti e tante altre fonti per cui tipicamente una persona che ha un blog che ha un canale youtube guadagna veramente da tante fonti diverse che poi vanno a formare magari negli anni un vero e proprio reddito però ecco fare lo youtube e pensare ecco da subito magari di mollare tutto e di vivere con i guadagni poi chiaramente dipende anche dal singolo individuo io vivo in svizzera sono una professionista se lo paragono insomma al mio reddito dei del mio lavoro o anche alle altre fonti di reddito che io realizzo con il blog e con tutto quello che gli gira attorno ecco non per me non costituiscono un reddito ecco fanno naturalmente piacere sono grata aiuto per questa possibilità ma ma chiaramente ecco non mollerei mai tutto solo per fare la youtuber a tempo pieno per quanto riguarda l'altra parte della domanda cioè se si guadagna di più come youtuber o come blogger direi che dipende molto nel senso come vi dicevo la pubblicità non è l'unica fonte di guadagno per fortuna per uno blogger o no youtuber e poi è possibile attivare in molti altri modi anche altre fonti di reddito di guadagno che poi insieme possono sì negli anni sicuramente andare a costituire un reddito se parliamo solo di google adsense in particolare della della pubblicità mostrata sia sul mio blog che qua sul canale youtube io attualmente guadagno di più con il mio blog il mio blog ha un paio d'anni di più di questo canale ed è molto grosso per essere un blog italiano ecco queste erano un po le domande che mi sono state fatte non so se ne avete altre se c'è qualche altra curiosità qualche altro tema di cui vorreste sentirmi parlare o su cui vorreste ricevere consigli e se magari anche voi avete già un canale youtube oppure vorreste crearlo se siete bloggero vorreste aprire un vostro blog o in un qualsiasi altro modo vorreste avere una vostra presenza online e farla crescere magari anche monetizzare terro conto di tutte le vostre domande questo ve lo prometto e ne farò dei video di approfondimento su questo nuovo canale di cui trovate il link anche qua sotto ecco spero che questo speciale 10.000 iscritti vi sia piaciuto anche se non parla di moda per quanto riguarda le domande di moda ne parlerò in un futuro video e con questo ecco mettetemi un bel pollicione un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e magari anche all'altro canale se vi interessano questi argomenti e non mi resta altro che salutarvi e augurarvi un'altra splendida giornata ciao grazie a tutti